Oggi ti ho portato un mio caro, ma caro, caro, caro amico. Pensa che è nato nel posto più bello del mondo. Temo il peggio. Vabbè, non mi dilungo, effettivamente non ha bisogno di tante presentazioni. Basta il suo nome. Antonino Camarocciolo. Benvenuto. Grazie. Eccolo qua. Oggi noi siamo lì. Chi c'ha? Ma mi capite? Due di Vico insieme. Alla fine. Alla fine.